Sempre nuove e importanti proposte scientifiche da parte del Centro Medico Polifunzionale New Delta di Pizzo che ha nel neurochirurgo Giuseppe Gamberdella il suo responsabile scientifico. Il nuovo corso di aggiornamento proposto ai medici questa volta è riguardato le patologie della colonna vertebrale, diagnostica e trattamento. Il percorso formativo è stato strutturato in due giorni suddivisi in due moduli per un totale di 11 ore sviluppato da un'equip di neurochirurghi specializzati nel trattamento della colonna vertebrale. La microchirurgia consente oggi giorno tutta una serie di vantaggi sia per il paziente che per il chirurgo perché il paziente ha come garanzia quella di un'assoluta tranquillità in termini di sicurezza, in termini di efficacia e soprattutto in termini di pronta ripresa. Per il chirurgo consente di affrontare sfide sempre più complesse, sempre più complicate ma soprattutto consente anche di velocizzare i tempi e di poter lavorare in piena serenità e tranquillità. Questi sono dei capisaldi della nuova microchirurgia. Da questo punto di vista i passi avanti sono stati veloci in poco tempo, danno sicurezza per il lavoro ma anche tranquillità per il paziente poi negli anni successivi. Esattamente perché la tecnologia ci è venuta fortemente in supporto, oggi ci usufruiamo quotidianamente di sistemi robotizzati, di sistemi di ingrandimento della visione, di sistemi di monitoraggio neurofisiologico che consentono di fare sempre degli interventi più efficaci, più complessi ma soprattutto anche di disporre di materiali nuovi ed aggiornati che risultano sempre più efficaci e ben tollerati completamente dal corpo umano nel corso degli anni a venire. Si può quindi rassicurare il paziente? Completamente sì. Inoltre sono stati trattati anche i fattori di rischio del paziente come ad esempio l'obesità. Non c'è dubbio che il problema del peso corporeo gioca un ruolo importante sull'equilibrio della colonna vertebrale? Sicuramente. Purtroppo l'obesità è un macigno che grava oltre che su tantissime patologie che sappiamo anche sulla colonna vertebrale. Questo perché, ahimè, l'accumulo di grasso, soprattutto quello a livello dell'addome può portare a uno spostamento del baricentro, del peso corporeo con un disallineamento della colonna vertebrale che quindi non distribuisce più bene i carichi come un tempo e quindi può andare in sofferenza. Da questo punto di vista quindi è importante seguire una dieta precisa e anche seguire poi i consigli dello specialista per mantenere il giusto equilibrio? Certamente è molto importante. Purtroppo l'obesità è un fenomeno crescente quindi fortunatamente, d'altro canto, l'attenzione alla sana alimentazione cresce altrettanto quindi è molto importante che le persone che hanno anche sofferenza della colonna vertebrale si avvicinino al modo dell'alimentazione, inizino un percorso che li porti alla sana alimentazione e sicuramente in automatico anche alla perdita di grasso e di peso.